Esplorare le diverse sfaccettature della cura attraverso l'arte. E' questo l'obiettivo del progetto Cura di sé e cura dell'altro, Male Art Project, organizzato dall'ASL di Biella in collaborazione con Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto e Fondazione Bonotto. Un'iniziativa dal grande valore creativo e riflessivo che vede protagonisti gli studenti degli istituti superiori italiani e numerosi artisti italiani internazionali chiamati a rappresentare attraverso l'arte postale il tema della cura. Il tema fulcro si lega anche alla pandemia vissuta negli ultimi due anni. Cosa ci ha insegnato questa esperienza rispetto alla cura di noi stessi e alla cura degli altri? Gli organizzatori hanno deciso di ricorrere allo sfruttamento della Male Art, che ci rimette in contatto con la fisicità in contraposizione alla sfera virtuale che è spesso al sopravvento. Quello della Male Art è un movimento artistico nato tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, basato sull'invio, tramite posta tradizionale, di opere in vario formato. Utilizza il mezzo postale allo scopo di comunicare pensieri, programmi, progetti, oppure per porre all'attenzione, per denunciare, per provocare o ancora per giocare all'insegna della creatività e della comunicazione. Per Male Art si intende un'opera realizzata utilizzando tipicamente materiali, supporti, tecniche e contenuti in forma di cartoline o lettere. Il termine ultimo per l'invio delle opere è fissato per il 15 gennaio 2022. Tutte le opere realizzate verranno esposte nella primavera 2022 presso Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, oltre a confluire in un catalogo appositamente studiato.